il quando siamo giunti alle 4 della mattina cambio in cabina fino a questo momento corradino a partir da questo momento manuel grandi e scusate se ha poco movimento rotatorio movimento sussultorio brucia, brucia quella voglia ardente che hai di balare brucia, 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 brucia come on come on let's go tonight brucia, brucia, brucia come on let's go put your hands up Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Naturalmente vi ricordiamo che noi siamo qui fino alle 6 e mezza della mattina, come sempre a vostra completa disposizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.